Buongiorno e bentrovati a mattino 6. Oggi, giovedì 8 dicembre, giorno di festa e il giorno dell'Immacolata Concezione. Apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali dal quotidiano dell'Abruzzo il Centro, edizione dedicata a Pescara. In apertura ci pensa Mattarella, Renzi si dimette via alle consultazioni, la crisi nelle mani del Presidente della Repubblica. E poi l'ex Premier, orgoglioso del lavoro del Governo, Beppe Grillo invece, elezioni subito al voto con l'Italicum. Nelle cronache vediamo Pescara, omicidio Bucco, una pista porta al Comune. Domani l'addio a Jennifer, Iris a caccia di tracce e ancora ecco gli esperti che prevedono l'inquinamento. Nel taglio basso, Corte dei Conti, allarme regione, spese fuori controllo, crack De Nicola, i verbali che accusano il giudice Marsella, ex Carichieti, bancarotta, sono due gli indagati eccellenti. Natale in tavola, così ci mangiamo l'Abruzzo, gli chef suggeriscono le loro ricette per i giorni delle feste. Calcio Serie A, il Pescara corteggia il polacco Gonequi. Ed ora l'edizione dedicata alla provincia di Chieti. Chieti, vediamo stessa apertura per quanto riguarda le notizie nazionali e poi nelle cronache invece ad Ortona cade dal muro in coma un 24enne avvasso. Donna rivela o scoperto i falsi militari USA. Chieti, falso invalido, intasca pensioni per 500 mila euro. E poi Chieti, stasera va in scena il circo degli orrori. Edizione dedicata all'Aquila, vediamo a Teramo, scusate, vediamo l'apertura, quindi stessa apertura. Poi nelle cronache invece a Teneo, il rettore, questa città non ci aiuta. San Gabriele, addio a padre Pierino, il frate giornalista terremoto, lavori subito per salvare Sant'Agostino. Calcio Lega Pro, il Teramo crolla in casa, Campitelli, colpa mia. Ed ora l'Aquila, vediamo nelle cronache, tasse non pagate, stangata uè sulle imprese. Canistro, Santa Croce, annullato il sequestro. Ad Avezzano, imprenditore in cella per frode e riciclaggio. L'Aquila, ecco tutti i premiati alla festa dello sport. Ed ora il messaggero in apertura, gli assegni di Marsella. Abbiamo visto, Pescara, il giudice indagato per corruzione sulla base delle intercettazioni. Gli hanno portato l'insalata, secondo gli inquirenti erano dei titoli bancari. Chieti, falso invalido, denunciato dal vicino di casa e poi Jennifer uccisa, il rebus delle impronte sul coltello. Magistrati, Pescara, la procura, perde la Tedeschini, il CSM, la nomina. Procuratore a Pesaro, scoperti due ruoli di vertice dell'ufficio. I conti della regione, Movimento 5 Stelle e Paolucci allo scontro sulle critiche al bilancio. In centropagina, Pescara, Viale Pindaro, negozianti contro l'isola, pedonale in attesa del campus universitario. Ortona precipita fuori dal teatro, è grave. Ed ora la città, il quotidiano della provincia di Teramo in apertura a 32 scuole sotto inchiesta, valanga di espossi sulla sicurezza delle comunali e superiori. La procura istituirà un pool di magistrati. Nel taglio alto, invece, vediamo provincia, saranno utilizzati per le scuole superiori. Caserma dei Carabinieri venduta per 5,7 milioni. Il liceo delfico è sicuro, ma non troppo, l'assemblea sui lavori. Provincia, adesso la del Rio, va cancellata. Caos post referendum. In centropagina, Teramo, il rettore sprona la città a fare squadra con l'Ateneo, lezione d'amico. Teramo calcio, fallimento totale, diavolo inguardabile, sconfitto in casa dalla maceratese. San Gabriele è in lutto, è morto padre Pierino, già direttore dell'eco-politica, cena tra gatti e dodo sul futuro di Brucchi. A Roseto, a N. ci spera, il PD è tornato in minoranza. E poi l'inchiesta, Giulianova, caos orari e uffici poco accessibili in municipio. Ed ora, passiamo ai quotidiani nazionali. Vediamo il Corriere della Sera, Mattarella, tre ipotesi per la crisi. Accolte con riserva le dimissioni di Renzi, si allontana lo scenario del voto ravvicinato. Le vie del reincarico del governo di responsabilità o istituzionale, da oggi fino a sabato, le consultazioni. E poi in centropagina, la prima, Butterfly incanta, 13 minuti di applausi, festa alla scala con l'opera di Puccini. Vediamo in breve, sulla prima pagina, il partito sfugge al segretario, per quanto riguarda la direzione dei democratici. Matteo Bis fino al 2018, ancora gli investimenti e il rigore per la crescita dell'Europa. La manovra ora è legge, ma mancano 60 decreti per quanto riguarda bilancio e fisco. Nel taglio basso, la burocrazia veneta del dialetto. La regione vota il bilinguismo, ma è davvero questa la priorità del nord-est? Il mistero a Roma, la ragazza cinese assalita e sparita. E poi la meningite a Milano, doppio contagio, stessa persona. Passiamo al messaggero, crisi, tre strade per il governo, dimissioni di Renzi, mi chiamo fuori. Mattarella cerca soluzioni rapide, consultazioni già oggi, ipotesi di esecutivo istituzionale, politico a guida PD o reincarico al voto non prima di giugno. E poi la foto in centropagina, il premier dalla finestra di Palazzo Chigi. E ancora Roma, non erano malati i vigili di Capodanno, processo per 22 medici, firmarono decine di certificati falsi, rimasero a casa 748 caschi bianchi. Manovra approvata, pensioni, bonus, welfare e fisco, così si cambia. Risposte mancate per quanto riguarda l'editoriale, se la società corre più della politica, questo è il titolo. E poi lo scenario, Gentiloni e O. Padoan, se il dentro tutti non dovesse riuscire, che sinistra sarà idem al bivio tra turborenzismo e stile post-DC. Vediamo nel taglio basso, regeni individuati gli agenti che lo pedinavano in Egitto, il dossier in mano alla Procura di Roma. La stampa, Padoano Gentiloni per il dopo Renzi, il piano del premier, congresso subito per sconfiggere la minoranza del PD. I sospetti sul ruolo di Franceschini, oggi via alle consultazioni di Mattarella. E Mnudis taglia le prospettive dell'Italia. Diario della crisi, la rivincita dei peones, ciao Matteo, e poi Grillo, tentato da una pausa, torno a teatro. La fotonotizia in centropagina, Butterfly, la rivincita di Puccini alla scala, 13 minuti di applausi per l'opera nella versione originale, Foglier, senza politica e cultura. Ed ora, il fatto quotidiano, vediamo noi giovani studenti abbiamo detto no a papà e alla riforma, così il titolo nel taglio alto, hanno perso tutti i diritti ma si tengono stretti i valori. La protesta, l'Istat e l'Istituto di Sanità, quei precari ignorati. In centropagina, la crisi di Renzi si dimette e in Bavaglia il PD ce l'ha mollato. Da oggi a sabato le consultazioni al colle, assai improbabile un reincarico. Una buona legge per votare senza più déjà vu, così all'interno, e poi tutti rivedano solo il fatto ci ha creduto. Affari, vediamo l'azienda super scontata, finisce al socio di Papà Tiziano e a Chico Tessa, tra Finmeccanica, ADS e VitroSix. Vediamo ancora le banche, fallito l'aumento di capitale, Montepaschi, l'ultimatum alla BCE, più tempo o nazionalizzazione. Passiamo al libero, caos politico dopo il no, tutto fermo, devono litigare il premier si dimette ma resta, la crisi è lontana dalla soluzione, Quirinale e Matteo sempre più ai ferri corti, non si capisce cosa l'ex rottamatore pretenda, non si fida del PD né di altri, forse neanche di se stesso. In centropagina generale senza più esercito, così titola la foto di Matteo Renzi e poi vediamo l'editoriale di Feltri con il referendum, Renzi ha perso un po' di lucidità e Mattarella si arrabbatta e poi la butterfly disertata, prima della scala, le note stonate sono della politica. Stress post voto, che paura Silvio, ricoverato ancora, e le forziste visticciano sugli inviti ad Arcore. E poi nel taglio basso vediamo Bergoglio di Nigra, la TV dove però è onnipresente per il Papa e un mezzo per Fragi appunto. Il nome degli immigrati storpiano l'inno di Mameli, da Fratelli d'Italia a Fratelli in Italia. Ed ora il mattino, vediamo in apertura, il titolo Renzi si dimette e lancia la sfida, il Colle accetta con riserva, il Premier, Governo di tutti o voto dopo la consulta, oggi Mattarella dà il via alle consultazioni, Grillo, elezioni subito, la Mudis taglia le previsioni sull'Italia da stabili a negative. Il retroscena, vediamo le tre strade del Quirinale Grande Intesa, il BIS o i tecnici e poi retroscena 2, correnti PD pronte all'assalto, Matteo teme il tradimento. Le pagelle, il bilancio di mille giorni tra promossi e bocciati. E poi il caso lungomare di Napoli, inaugurata la struttura alta a 45 metri, Natale sul golfo, si accende l'albero pop. E poi il giallo, Materazzo mi confessò, mio fratello mi ucciderà, il racconto shock di un caro amico. Il reportage invece vediamo, funerali, famiglia divisa, la moglie da una parte, Luca e sorelle dall'altra. Nel taglio basso del personaggio, Trump, l'uomo che ha sconfitto tutto e tutti, perché Time lo ha definito la personalità dell'anno. E poi le interviste, in questa Champions nessun invincibile, Cannavaro, ma la priorità è il campionato. Poi l'analisi, il grande rebus della nuova puntata, l'analisi 2, contro Real e PSG, serve più qualità. Il manifesto, affari spenti, così titola l'apertura, e quindi la fotonotizia del manifesto, Renzi ringrazia, si loda e si dimette davanti a una direzione muta, dove parla solo lui, poi sale al colle, dove Mattarella oggi inizia le consultazioni, su una crisi al buio. L'ex premier detta le condizioni, governo con tutti o elezioni, poi annuncia battaglia interna, sarà dura, molto dura, la partita nel risico delle correnti. E il Senato vota a larga maggioranza, la fiducia blindata, al via la manovra degli esclusi. All'interno vediamo i titoli, sinistra vendola, la proposta Pisapia e Fantapolitica, e ancora nuove carte dal Cairo, sconfessano la polizia e il regime, e poi il New Normal di Trump, l'uomo dell'anno di Time. Passiamo al Gazzettino, politica in apertura, nuovo governo, il piano del colle, subito al via le consultazioni, Mattarella alla ricerca di soluzioni rapide, tre ipotesi sul tavolo, Renzi si dimette, mi chiamo fuori, il Quirinale pensa a un esecutivo istituzionale o politico, a guida PD o al re in carico. Vediamo l'appello del campione di Belluno, la fotonotizia, ha rubato l'oro paralimpico, quella medaglia, il ricordo più caro, ha detto. Treviso si impicca in casa, a 12 anni, era angosciato dalla scuola, in fin di vita ha autorizzato l'espianto di organi. E poi nel taglio basso, credito, non incita il giudizio Pop Vicenza, accuse a Sorato e all'ex DG Giustini, e l'inchiesta Reggiani, individuati i poliziotti che lo pedinavano in Egitto. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi lascia e spinge sul voto, questo è il titolo, governo di tutti o alle urne, dopo il verdetto sulla legge elettorale, Grillo insiste, votiamo con Italicum per Berlusconi, aritmia da stress. Nel taglio alto invece vediamo a Bari Petruzzelli, 15 giorni per evitare i tagli, sono 74 gli esuberi dichiarati fra i dipendenti della Fondazione Licenziamenti Attesi il 24, la regione si attiva. I telefonini dei capi stazione non comunicavano tra loro per quanto riguarda lo scontro fra treni in Puglia. Taranto come Roma per l'inquinamento in Sorge Emiliano, sono gravi in città i danni per lo sviluppo dei bambini. Il Sud all'opposizione, ragioni e calcoli dietro i voti contrari alla riforma Boschi. E poi ancora vediamo tra i titoli cercasi classe politica che non venda illusioni, perché a lui conviene fermarsi un giro o due. E poi l'economia e la finanza, l'ombrello della BCE rende euforici i mercati e lavoro frena l'occupazione e penalizzati i giovani. Ambiente, gasdotto, nuove schermaglie tra gli ambientalisti e la TAP. Ed ora passiamo al secolo XIX, Renzi subito il congresso, il piano, così l'ex premier punta a sbaragliare la minoranza PD, il colle, da oggi le consultazioni in ascesa Padoan e Gentiloni. Le dimissioni, poi i sospetti su Franceschini, tratta con Berlusconi per farmi fuori. E i provvedimenti, la manovra è legge, cancellati per la fretta i 50 milioni a ILVA. La guida, scade il saldo IMU, le novità, i chiarimenti e gli esempi di calcolo. Nella centropagina, invece, la fotonotizia che titola Crociere, la prima apertura di Cuba a Trump, il governo dell'isola sblocca le navi delle compagnie americane. Il caso città e sicurezza, il capo della polizia fa i conti e boccia i militari. Time sceglie The Donald, il personaggio dell'anno che predilige i generali. E ancora, vediamo l'unità, o tutti insieme o si vota, Renzi dimissioni con rilancio, governo di responsabilità, altrimenti alle urne dopo la consulta. PD diviso sulla linea del segretario, colle via alle consultazioni, Grillo e Salvini soffiano sul fuoco. E in Siria, alla Siria è dedicata la fotonotizia in centropagina dell'unità, la riconquista, così il titolo, la bandiera di Assad ad Aleppo, appello per la tregua. Vediamo, nel taglio basso, riuniscono la sinistra, la mossa Pisapias, piazza Fassina, Vendola e Bersani. E poi Ferrara, perché non si può votare, e la direzione di Giuliano, per quanto riguarda le notizie all'interno. La verità, ancora, dimissioni accettate con riserva, Renzi a caccia di stipendio politico, di professione. Il premier uscente perde il suo unico reddito, ora deve convincere il Partito Democratico a remunerare la carica di segretario, oppure farsi mantenere da qualche imprenditore amico. Ultimo atto di governo, niente soldi per i bimbi malati di Taranto, così il titolo della fotonotizia in centropagina, e poi ancora De Benedetti e Vazzoli rispolverano Psiapia. Per preparare il colpo del no, rimandato in scena il compagno neoprene a tutelare le elite di sinistra. Populisti a metà, Laura e Grillini parlino chiaro sul dramma immigrazione e ancora le voci sul salvataggio, manovre pericolose sul Monte Paschi per reggere il gioco al PD. Vediamo invece nel taglio basso una notizia di Spadaro che scrive ai discorsi del Papa il vice Bergoglio pro gay e divorzio per quanto riguarda appunto chi è il direttore di civiltà cattolica. Ed ora ci fermiamo con la nostra rassegna stampa per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Luca Mennella di InMeteo.net. Seconda parte di Mattino 6, ora vediamo le pagine interne dei quotidiani regionali abbiamo visto la prima pagina del centro entriamo all'interno la manovra Abruzzo in perdita emendamenti saltati regione penalizzata niente misure per la ricostruzione post-sisma ma le proposte decadute con la fiducia alla legge di bilancio possono tornare in gioco. vediamo quindi su questo effetto referendum quindi sono saltati gli emendamenti per il terremoto in legge di stabilità vediamo il contributo video di Giorgio Alessandri l'onda lunga del post-referendum e delle dimissioni del premier Renzi si fa sentire anche in Abruzzo nel capoluogo la necessità di approvare con voto di fiducia la legge di stabilità infatti apre scenari forse non del tutto inattesi alla vigilia della consultazione referendaria ma in pochi probabilmente si aspettavano che la situazione potesse precipitare così rapidamente con la fiducia alla finanziaria infatti saltano tutti gli emendamenti come spiegato dalla senatrice Aquilana Pezzopane legati al post-terremoto in Abruzzo provvedimenti per gli uffici della ricostruzione fino alle proroghe per i precari dei comuni la proroga del cococo e soldi per i sottoservizi nei comuni del cratere per l'equiparazione del salario degli dipendenti degli uffici speciali della ricostruzione ma non solo la senatrice sostiene che con la fiducia salterebbe anche l'emendamento contenente i fondi per i bilanci dei comuni per sopperire alle minori entrate e alle maggiori uscite della ricostruzione post-terremoto affermazione quest'ultima smentita da Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale come spiegano i portavoce del capoluogo Michele Malafoglio e Chiara Mancinelli un emendamento in tal senso ovvero con cui destinare fondi e bilanci dei comuni terremotati nel 2009 presentato proprio dalla parlamentare democrat è stato dichiarato inammissibile nell'ambito della discussione del decreto legge sul sisma del centro Italia insomma se fondi per i comuni non arriveranno non sarà per colpa del post-referendum e della fiducia sulla legge di bilancio e come ribadiscono i due esponenti di Fratelli d'Italia il governo deve rendere strutturali i contributi per le minori entrate e le maggiori spese utilizzando una quota delle risorse già disponibili per la ricostruzione e assegnate di volta in volta con le delibere del Cipe secondo parametri prefissati e non costringere ogni volta i primi cittadini ad andare a Roma con il cappello in mano ad elemosinare ciò che spetterebbe di diritto E ancora scenari Abruzzo a confronto fronte aperto sull'agenda regionale dopo l'intervista al centro del presidente D'Affonso si accende il dibattito tra legge elettorale indennità e altre priorità ieri sul centro dopo voto D'Affonso attacca nuova legge elettorale e taglio delle indennità appunto e sui costi della politica basta demagogia così di Nicola non ci sta siamo al massacro in due anni ho fatto 200 mila chilometri con la mia auto Ed ora vediamo venti di crisi Abruzzo Sprecone fuori controllo le spese della regione denuncia dei giudici contabili l'assessore al bilancio replica disavanzi ereditati troveremo il modo di salvare i servizi in commissione profughi passa la norma Sospiri ed ancora scambio di impiegati 160 fuori e 170 dentro accordo con i sindacati esuberi in pensione stipendiati per un anno al loro posto gli ex delle province formazione scuola lavoro con i comuni ed ancora la nuova indagine sul crack de Nicola vediamo l'intercettazione che inguaia il giudice Marsella magistrato della corte d'appello sotto inchiesta per millantato credito l'accusa doveva orientare i fallimenti nel taglio basso invece vediamo in retroscena rabbia dopo i decreti ingiuntivi per gli stipendi l'imprenditore con i dipendenti non bisogna avere pietà e bancarotta parte l'inchiesta ex carichieti il PM indaga sui commissari Immordino e Bocchicchio passiamo ancora avanti vediamo sulla la prima pagina dedicata a Pescara a casi aperti per l'omicidio Bucco cercate in comune a quattro anni dal delitto di via Leopardi illegale della famiglia riceve una lettera la procura acquisisce agli atti lo scritto che potrebbe far ripartire l'inchiesta e vediamo ancora l'assassino è più alto della vittima quello che ha dichiarato l'avvocato dell'unico indagato bastava leggere le carte per capirlo e poi ancora la sorella ora speriamo si arrivi alla verità la famiglia della vittima ci sono persone che sanno che ha ucciso Nicola ma da quattro anni non parlano e su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video di Alfredo Primante si riaccende una luce sul delitto per adesso avvolto nel più completo mistero di Nicola Bucco l'operaio 53enne assassinato a coltellate nel suo appartamento di via Leopardi a due passi dal porto di Pescara il 14 novembre del 2012 una lettera anonima recapitata il primo dicembre ad uno degli avvocati della famiglia Bucco fornisce una serie di indicazioni su tre individui che potrebbero essere coinvolti nell'omicidio nella lettera si fa riferimento a due persone molto alte residenti nella zona dell'omicidio che frequentavano sia Casa Bucco che il cosiddetto Baretto ovvero il locale del porto canale finito al centro delle indagini l'anonimo indica anche una terza persona con barba e capelli lunghi descritto come un tipo rozzo che come gli altri due avrebbe frequentato sia Casa Bucco che il bar su questa terza persona inoltre che ha scritto la lettera anonima ha fornito un ulteriore dettaglio che potrebbe risultare molto utile alle indagini cioè il luogo di lavoro spiegando che da quando è successo il fatto non si è più visto la lettera è stata recapitata in busta chiusa e dunque il primo passo degli inquirenti sarà sicuramente quello di cercare eventuali tracce e impronte che consentano di risalire al mittente a fine novembre in tribunale a Pescara c'era stata l'udienza per discutere la richiesta di archiviazione presentata dal PM Gennaro Varone il GIP Nicola Colantonio si era riservato di decidere ma a questo punto è possibile che le indagini vengano riaperte accantonando così la richiesta della procura adriatica i legali della famiglia Bucco Alberto Faccini Caroppo ed Enrico della Cagna si sono sempre opposti alla richiesta delle PM denunciando lacune nelle indagini e chiedendo che venissero svolti ulteriori approfondimenti ed ancora vediamo l'omicidio di via acqua torbida al Jennifer fatale la coltellata alla gola l'autopsia ha ricostruito l'aggressione da parte di Davide Troilo RIS nella casa del delitto per 11 ore domani i funerali anche su questo vediamo il contributo video quello di oggi potrebbe essere il giorno della verità sulla morte di Jennifer Sterlecchini la 26enne pescarese commessa e neodottoressa in lingue uccisa venerdì scorso dall'ex compagno Davide Troilo 32 anni piccolo imprenditore nel settore degli ascensori da lunedì pomeriggio rinchiuso nel carcere di San Donato dopo essere stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate nella colluttazione con la donna sulla scena del crimine in cui la coppia aveva convissuto per tre anni la villetta a due piani di via acqua torbida nel quartiere Fontanelle sono arrivati i carabinieri del RIS di Roma la scientifica ha analizzato palmo a palmo sia all'esterno che all'interno dell'abitazione dove Jennifer era tornata a prendere le ultime cose per chiudere il rapporto con il compagno rotto poche ore prima e da cui non è più uscita viva gli investigatori continuano a non essere convinti della versione dei fatti resa la sera stessa del delitto da Troilo al PM Silvia Santoro e confermata nell'interrogatorio di garanzia di lunedì mattina al GIP del Tribunale di Pescara Antonella di Carlo che ha convalidato l'arresto per questo si continuano a cercare tracce e riscontri scientifici che possano supportare l'ipotesi di omicidio volontario mentre sotto analisi ci sono anche i cellulari dei due ex fidanzati Troilo ha sostanzialmente raccontato di essersi difeso a seguito di una lite trasformatasi in colluttazione sfociata in tragedia quando la ragazza avrebbe afferrato un coltello con cui avrebbe ferito il ragazzo che poi l'avrebbe uccisa ci sono elementi però che stridono con questo racconto la porta d'ingresso dell'appartamento chiusa dall'interno che ha lasciato fuori inermi sia la madre di Jennifer che l'amica che l'avevano accompagnata a fare il trasloco le due donne infatti hanno assistito impotenti alle richieste d'aiuto della ragazza cercando di sfondare a calci il portone e saranno testimoni chiave stesso discorso per il vicino di casa che ha dato l'allarme al 112 e che ha cercato in vano di entrare in casa il portone infatti stando alla prima ricostruzione dei fatti si sarebbe aperto solo dopo l'arrivo dei carabinieri troppo tardi per salvare la vita di Jennifer così come il racconto di Troilo Marsi concilierebbe con le chimosi sul corpo della ragazza e con le coltellate più di una inferte alla ex fidanzata aspetti questi che saranno chiariti dall'autopsia all'obitorio di Chieti a cura dell'anatomo patologo Ilvo Polidoro incaricato ieri pomeriggio dalla procura di Pescara esame per alcuni versi decisivo per stabilire sia il grado di crudeltà dell'omicidio che quale delle coltellate sia stata quella fatale ancora sul quotidiano il centro vediamo paura tra gli automobilisti a Pescara asse traffico in tilt per salvare due cani e Viale Pindaro è insicura e l'università cade a pezzi negozianti bocciano il progetto del comune sulla pedonalizzazione della strada senza auto le attività moriranno e quando l'Ateneo chiude non verrà nessuno in breve vediamo nei negozi del centro oggi i bimbi scrivono a Babbo Natale evento domenica le Ciso ospiti di Virginio Total Look le superluminarie ecco luci d'artista accensione alle 18.30 su Corso Umberto SOS inquinamento Pescara si affida agli esperti che prevedono lo smog il comune firma un'intesa con il CETEMS per monitorare l'aria in tutta la città andiamo ancora avanti vediamo disabile indigente strattato dall'istituto Santa Caterina a Francavilla l'asle di Chieti non proroga il ricovero nella struttura riabilitativa e la fondazione ricorre al giudice Sospiri chiede aiuto alla regione Cepagatti bloccato lo stoccaggio rifiuti a Piano Marino Francavilla ancora scatta l'allarme ha ciuffato il ladro cerca di entrare in casa e di rubare un'auto ma viene bloccato Villaggio di Natale in Piazza Sirena oggi tanti appuntamenti per i bimbi e un trenino gratis in centro e poi spoltore incontro con le foto di Giuseppe D'Amico Pagina dedicata a Montesilvano Sport in città la pista di atletica leggera realtà dopo otto anni d'attesa l'impianto costa mezzo milione sarà inaugurato sabato il progetto del 2009 la costruzione è stata sospesa più volte c'è anche l'ok della Fidal per le gare ed ecco le strade chiuse domenica c'è la maratona circolazione ridotta dalle nove eventi estivi il comune non paga Orsini contesta l'amministrazione per non aver liquidato i compensi agli artisti ed ancora vediamo aperto l'impianto sportivo nella scuola di Villa Raspa Pianella al Maca al laboratorio sui fischetti di ceramica città Sant'Angelo feste di Natale con magia degli elfi e il teatro da ridere Montesilvano apre il mercatino solidale auto all'assalto del centro sosta selvaggia ogni ora piazza Luca da Penne e via Dante Alighieri spesso inaccessibili e pedoni e disabili l'ex sindaco Rocco D'Alfonso sollecita i lavori di riqualificazione già finanziati popoli San Callisto lavori antiallagamenti 50 mila euro per pulire sponde fondali e creare un percorso sugli argini Scafa concessione mineraria vediamo bando per l'opificio Sama e Penne studenti del Marconi a lezione di guida dalla polizia chiedi il tribunale da accorpare gli avvocati teatini stoppano le speranze di Vasto e Lanciano una delibera dell'ordine forense invita Mattarella e Legnini all'inaugurazione del nuovo palazzo di giustizia ampliato e cade dal muretto 24 anni in coma incidente nella notte a Ortona ancora vediamo lo scontro frontale grave una ragazza ripateatina all'incidente vicino al cimitero in ospedale anche un 44enne di San Salvo Orsogna ladri d'auto inseguiti a folle corsa dei carabinieri i militari dell'arma tallonano per 20 chilometri sulla statale 16 ma senza raggiungerli la BMW con i tre complici a bordo finisce fuoristrada i malviventi fuggono nella notte la testimonianza così ho sventato la truffa a vasto parla una delle vittime dei falsi militari USA a giudizio per il drogo nel suo pub incendio al coiba sotto accusa la donna che lo gestiva sarà processata a marzo l'aquila tasse da restituire una mazzata sulle imprese l'unione europea parte dalle agevolazioni fiscali post sisma e concorrenza sleale la parola magica è de minimis franchigia e a compensazione dei danni e poi vediamo qui riportato dal centro la procedura di recupero delle tasse sospese dopo il sisma del 2009 avviata dall'unione europea l'imprenditore marini in carcere false fatture oltre 2 milioni di euro finiti nei paradisi fiscali ad Avezzano frode e riciclaggio canistro Santa Croce annullato il sequestro il proprietario Colella ora si sta facendo finalmente chiarezza e Teramo il futuro dell'Ateneo università la crescita continua ma non c'è sinergia con la città il rettore nel bilancio di fine anno avverte gli altri territori si stanno muovendo qui è tutto fermo difendo il progetto Cabinovia serve a portare giovani in un centro storico sempre più spopolato e su questo articolo che apre poi la pagina dedicata a Teramo ci fermiamo per vedere il contributo video di Tania Bonnici Castelli 13 giornate di orientamento 9 mila studenti delle scuole superiori coinvolti 6 summer school 1611 nuove matricole per un incremento dell'8,3% e un'impennata di dottorati in larga parte provenienti dall'estero che la rende il primo ateneo in Europa per attrattività e l'Università degli Studi di Teramo che chiude il 2016 con questi dati confortanti studenti iscritti immatricolati in crescita il dottorato con risultato straordinario primo ateneo in Europa per attrattività dai paesi stranieri oltre 299 domande pervenute da laureati in atenei prestigiosi e paesi altrettanto prestigiosi consolidamento dell'autonomia patrimoniale e finanziaria su 42 milioni di totale di bilancio 16 milioni sono fondi propri fondi in qualche modo in autofinanziamento l'ateneo scoppia di salute Nella conferenza di fine anno il rettore D'Amico non ha solo ricordato i risultati raggiunti dal suo ateneo ma ha anche voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe per quanto riguarda la realizzazione della funivia e la creazione del polo bio-veterinario con l'istituto zooprofilattico mi sembra che le richieste non abbiano trovato una grande accoglienza non importa andremo avanti lo stesso andremo avanti da soli o ci rivolgeremo altrove perché i risultati conseguiti non possono essere vanificati con una politica di puro mantenimento a me farebbe piacere che lo stesso sostegno delle istituzioni venisse riservato anche all'Università di Teramo mi spiace dover discutere di questioni marginali e di aver creato anche degli equivoci probabilmente per un mio errore di comunicazione faccio un esempio per tutti la collaborazione con lo zooprofilattico nessuna mania di protagonismo nessun interesse a voler acquisire lo zooprofilattico è veramente lontano da ogni pensiero dell'Ateneo è un progetto di grande collaborazione la realizzazione a Teramo dell'unico centro in Italia di sorveglianza integrata sulla salute animale e la sicurezza alimentare e le produzioni agroalimentari sostenibili non è stata accolta il ministro Rellenzini mi ha spiegato che mancano i presupposti giuridici ma questa cosa io la sapevo benissimo perché se ci fossero stati i presupposti giuridici mi sarei rivolto al direttore generale del ministero e non a lei e poi la domanda di Rito sulla possibile candidatura del Magnifico alle prossime elezioni politiche provocazione dribblata magnificamente e a proposito di dirigenza politica forse si voterà presto è possibile la sua candidatura? inspiegabilmente nei nomi che si fanno per il nuovo primo ministro non c'è il mio quindi tenderei ad escludere un impegno politico di questo tipo Ed ora passiamo alle pagine interne del quotidiano della provincia di Teramo la città abbiamo visto la prima pagina e quindi l'apertura con 32 scuole sotto inchiesta e la valanga degli esposti entriamo all'interno pagina dedicata alla regione province la riforma del Rio va cancellata con il flop del referendum gli enti sono rimasti nel limbo senza soldi ma con troppe funzioni importanti nomine Arap Deombroni da commissario promosso a presidente del CDA Pescara regione a gennaio andranno in pensione 172 dipendenti si tratta di dipendenti oltre 60 anni di età che hanno maturato i requisiti ante riforma Fornero l'emergenza terremoto firmato il protocollo legalità tra protezione civile e finanza l'accordo servirà anche per individuare eventuali affitti in nero e prodotti in vendita con prezzi maggiorati Università di Teramo abbiamo visto il contributo video e quindi il titolo vediamo del quotidiano la città il rettore d'amico fa lezione per la città Funivia i ZS Braga ad ogni apertura dell'Ateneo eseguita una chiusura riccio altrove si viaggia a Braccetto nel taglio basso Funivia la politica di Sabatino Bacchetta il PD è arrivato il momento di una presa di posizione netta ha detto e lo ha detto proprio durante la conferenza stampa ancora unite un'Ateneo in perfetta salute matricole dottorati fondi e ricerca in crescita nonostante il terremoto e il polo umanistico vediamo il futuro del rientro in città passa dall'ex manicomio entro il 2019 sarà a disposizione dell'Ateneo grazie ai fondi del Masterplan andiamo ancora avanti 32 scuole quindi vediamo il titolo in apertura 32 scuole sotto la lente della procura valanga di esposti singoli e collettivi sulla sicurezza delle sedi coinvolte le comunali e alcune superiori il procuratore nella foto Antonio Guerriero a breve comporrà il pool di magistrati dedicato al terremoto e alle indagini sulla sicurezza degli edifici scolastici doppio fronte al setaccio finanziamenti e procedure pubbliche ma anche ditte appalti e utilizzo dei fondi per i lavori già eseguiti piano d'accio rubano più mini al Gran Sasso arrestati manette tre rumeni in azione con borse schermate ed ora ancora la caserma dell'arma venduta per 5,7 milioni immobile ceduto alla società ministeriale in limit 4,5 milioni verranno usati per la sicurezza delle superiori terremoto altri 15 sgomberi soprattutto nelle frazioni ed ancora la manifestazione fiaccolata e processione tutto insieme per il sisma il convitto delfico è sicuro ma non troppo la provincia illustra i lavori per migliorare l'edificio i genitori restano preoccupati e chiedono una sede alternativa il problema è al terzo piano inagibile dal 2009 e al tetto già oggetto di interventi per evitare il collasso della facciata fu soltanto satira assoluzione confermata dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Riccitelli nei confronti di Melozi Baiocco e Olivieri ancora cultura premio teramo giuria al lavoro sui racconti beneficenza raccolta di giocattoli per i bambini confronto gatti dodo sul futuro di Brucchi i due pilastri della maggioranza a cena rumors sulle dimensioni dimissioni della Lucantoni NCD con Renzi non col partito democratico corso liberato in anticipo transenne del cantiere rimosse prima dell'immacolata banche pop di Bari assemblea rimandata al 27 dicembre poi terremoto ancora verifiche attorno al Duomo l'intervento della sovrintendenza giudiziari a bando e crediti ricorsi al tar rinviati per la Teramo Ambiente provincia lutto al santuario per la morte di padre Pierino il passionista già direttore dell'eco di San Gabriele si è spento a 78 anni all'ospedale di Teramo padre Pierino di Eugenio era nato a Coledara nel 1938 a ricordarlo anche il rettore del santuario padre Natale Panetta i funerali domani alle 10.30 al santuario di San Gabriele caccia al cinghiale nessuna decisione senza aver consultato le associazioni venatorie Federcaccia e Nelcaccia e Anu rispondono al presidente regionale della Copagri sul caso degli ATC Campli passi in avanti verso il territorio cardioprotetto l'amministrazione comunale installa due defibrillatori nelle piazze Tortoreto ho ancora fiducia in Alessandra Ricchi l'ex sindaco Generoso Monti analizza la situazione politica e non rinnega il passaggio di consegne la situazione difficile i problemi di Tortoreto riguardano soprattutto i servizi la viabilità le scuole e l'occupazione e cronaca allarme a Martinsicuro per la truffa del finto avvocato l'idea un murale decora l'ufficio postale di Alba Adriatica inaugurato ieri il lavoro dell'artista uruguaiana ingaggiata da poste italiane e caos su orari e uffici poco accessibili a Giulianova viaggio tra problemi e disservizi affrontati dagli utenti in municipio sul sito istituzionale ad esempio nella pagina dello sportello unico c'è scritto di tutto tranne gli orari Riccardo Mercante ancora bugie sull'assistenza materna nelle ambulanze pesca i vongolari proclamano lo stato di agitazione il sindaco di Giulianova spegne l'ennesimo attacco sulla Mastro Pietro a firmare i documenti per liquidare le cutedi è stato un altro dipendente ha detto e l'impresa vediamo Cristian riparte tra sorrisi e palloncini a cappello partito il 2 aprile per un tour a piedi per l'Italia domenica scorsa ha fatto tappa a Giulianova il PD a Roseto è già tornato minoranza referendum nonostante due onorevoli e un sindaco ha raccolto solo il 38% fornaciari ha detto hanno schierato pezzi da 90% ma la maggioranza schiacciante non è al loro fianco a Roseto Daniele Cimirosi presidente degli operatori turistici sempre a Roseto campanile messo in sicurezza entro la fine dell'anno completata ieri la prima fase dei lavori via libera alla riapertura della farmacia a Montepagano e il cartellone vediamo eventi natalizie a Roseto per rilanciare il commercio inizia oggi il programma di manifestazioni varato dalla giunta di Girolamo Silvi Comignani stretto tra referendum e PRG oggi l'approvazione del piano da parte del direttivo del PD restano insanabili le divergenze con SEL il voto sul piano regolatore atteso da oltre due anni dovrebbe arrivare entro dieci giorni crocevia per l'amministrazione e poi l'alleanza vediamo tra le ipotesi avanzate negli ultimi giorni quella di Marini alleato con il PD per un asseggio alla regione nel taglio basso Atri l'ingresso nel Gal Teramano deciso assieme a italiani il sindaco replica l'ex assessore era ancora in squadra con lui non è arrivato un soldo e l'economia in città vediamo primo sciopero in piazza dei commercialisti la categoria si mobilita manifestazione pubblica a Roma mercoledì 14 di dicembre passiamo ora al messaggero vediamo all'interno abbiamo visto la prima pagina dell'edizione nazionale vediamo adesso e quindi anche la prima pagina del messaggero dedicato all'Abruzzo entriamo all'interno per vedere invece le pagine dedicate alle quattro province iniziamo vediamo dalla da Pescara che apre con la cronaca il delitto quindi Jennifer il rebus delle impronte abbiamo visto poi ancora l'ordinanza il pedofilo del parco senza freni inibitori e il giallo lettera anonima ai familiari ecco chi ha ucciso Bucco abbiamo visto anche questo e l'isola di Viale Pindaro ci rovinerà pedonalizzazione in previsione del campus universitario negozianti non sono gli studenti il nostro vero business Chiavaroli ristoratori con commercio le attività della zona vivono dei clienti che possono parcheggiare per gli acquisti vediamo ancora in breve turismo un brand per pescare avarato concorso di idee a San Cetteo i segreti della cattedrale nella prima guida turistica la manifestazione cibo amore energia e musica da domani il Future Day Fest le telefonate che accusano il giudice toghe nel mirino filmati intercettazioni nell'inchiesta su Ciro Marsella sono andati a portargli l'insalata per i PM erano assegni controllati versamenti di soldi della moglie del magistrato che in codice veniva chiamato bummone o il medico Francavilla ladro in fuga ruba un auto arrestato e poi l'ordinanza antiprostituzione niente squillo a Natale tornano le multe del sindaco entra in vigore oggi fino al 28 febbraio la nuova ordinanza appunto antiprostituzione l'Aquila centrodestra e bagarre sul sondaggio di Forza Italia noi con Salvini chiede le primarie chi si sottrae al giudizio e contro la storia e poi Morelli di Forza Italia l'ipotesi è percorribile solo se disciplinata da una legge statale il referendum spinge la sinistra all'alternativa al partito democratico ancora legge di stabilità Iris da i responsabili scaricare sul no il mancato arrivo dei finanziamenti il caso rugby fondo di solidarietà scagionato Maurizio Zaffini vediamo ancora nel taglio basso la storia casa occupata abusivamente finiscono sotto processo la sentenza truffatore condannato a due anni e mezzo l'uomo si è rappresentato negli uffici INPS chiedendo documenti con false deleghe ancora mercatini spettacoli giochi per bambini il Natale in 155 eventi poi ancora i tesori mostra la collezione ex ex carispa e superstrada di Bazzano due milioni per la messa in sicurezza del ponte vediamo ancora subito le primarie nel centrodestra ad Avezzano questa la richiesta sul Mona teatro e cinema affidati senza una convenzione pesca seroli vince la causa dopo 83 anni una causa contro il comune di Scanno per alcuni terreni di uso civico e la vertenza Santa Croce il riesame riapre le acque Chieti incastrato dalle foto di un vicino falso e invalido va sotto processo il verdetto droga e pistola in casa Di Nardo condannato a 8 anni lo schianto sconto frontale ragazza di 27 anni grave all'ospedale l'evento paranormal circus al via una tre giorni da brivido sanità nuovo ospedale l'asl scrive a Cantone e a Lanciano direttore di banca giudizio per usura Claudio Dell'Aquila romano di 67 anni era l'ex responsabile della filiale cittadina di banca delle marche Vasto ritorna all'area verde della villa comunale Lanciano furti in auto ed inseguimenti a Raffica sempre a Lanciano parte la riquilificazione dell'ex ippodromo Ortona guardia di finanza sede inagibile e Teramo abbiamo visto l'ultimo appello del rettore collaboriamo o ce ne andiamo Giulia Nova Mastro Mauro alla camera Filipponi sarà vice sindaco questo l'interrogativo Trifoni Mastro Pietro non può pagare le fatture all'Eco Teddy a Giulia Nova ancora Corropoli l'azienda calzaturiera Olivieri apre in vibrata e poi il blitz ripuliscono centro commerciale la polizia arresta i tre malviventi San Gabriele l'addio a padre Pierino lo abbiamo visto il direttore dell'Eco Abruzzo Sport adesso Pescara missione ungherese il DS Leone è andato a visionare il difensore centrale Kadar che gioca in Polonia i dirigenti preparano l'assalto a Pinilla dell'Atalanta che invece non cede Paloschi piacciono Avenatti e Petkovic e poi vediamo la giornata Oddo ancora dubbi a centro campo il basket Roseto cerca l'impresa sul campo della Fortitudo in Lega Pro invece Teramo un film già visto niente salto di qualità per i biancorossi la maceratese si impone 0 a 1 al Bonolis e la quarta sconfitta interna della saggione fanno discutere alcune scelte di formazione e i protagonisti la furia di Campitelli Nofri non rischia chi non è da Teramo deve alzare la mano e andarsene paghiamo gli errori estivi ma a gennaio rimedieremo così ha detto appunto Campitelli e con la Lega Pro ci fermiamo e quindi termina così la nostra rassegna stampa l'appuntamento con Mattino 6 torna domani puntuale alle ore 7 grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione